Breve video in risposta a Paola ma perché è utile a tutto il gruppo per quanto riguarda il motivo per cui si dice di togliere tutte le luci dall'ambiente in cui si vuole dormire se si vuole avere un sonno profondo e di qualità. È chiaro che ognuno poi farà quello che può anche in base alle rispettive problematiche. Paola tu dici che soffri di claustrofobia e quindi hai paura a dormire giustamente nel buio più totale. Questa è una paura condivisa, non sei l'unica nel gruppo. Sì, ti rispondo che lavorare sul primo chakra per lavorare sulle tue paure è sicuramente utile. Il motivo per cui dormire con delle luci nell'ambiente in cui si dorme va a creare un sonno non di qualità è perché va a toccare la ghiandola pineale. Quindi la ghiandola pineale è una ghiandola che si trova nel cervello, produce melatonina e produce seratonina tra le altre cose. Quindi quando la luce si abbassa questa ghiandola produce più melatonina perché sta segnalando al nostro sistema che è ora di andare a dormire. Il fatto che è una ghiandola estremamente sensibile da una parte, quindi molto sensibile alla luce perché si collega al nervo ottico. Perciò qualsiasi luminosità che colpisce il nervo ottico sta segnalando alla ghiandola che non è ancora notte, che non è ancora ora di dormire e questa è una considerazione. L'altra considerazione è che andando avanti con l'età questa ghiandola si cristallizza, quindi purtroppo crea una sorta di cristallizzazione e questo si, forse cristallizza nella parola più giusta però non mi viene in questo momento, questo fa sì che funzioni meno attivamente nella produzione di melatonina. Per questo è anche importante stare attenti a che cosa si beve perché alcune sostanze diluite nell'acqua purtroppo possono andare a... non è cristallizzare? Vabbè, la ghiandola è anche il fluoro, quindi il dentifricio cercate di comprarlo senza fluoro, se potete. Perché? Perché mano a mano che questa ghiandola appunto si indurisce a causa dell'età e dell'ambiente in cui viviamo fa più fatica a produrre quello che dovrebbe produrre, quindi la melatonina per dormire ma anche la serotonina per sentirci bene, sereni durante la giornata. La serotonina è un neurotrasmettitore che ci dà un bel senso di benessere e influenza anche sull'alimentazione. Detto questo, è chiaro che... ah ecco, quindi se voi avete le luci nella vostra stanza, purtroppo spesso non ci rendiamo conto ma abbiamo la luce del televisore per chi dorme col televisore in stanza, quindi la piccola lucina rossa influisce. Se avete la sveglia con i numeri luminosi, influisce, quindi togliete tutte le luci artificiali che vi sentite di togliere dalla stanza. Se usate una lampada di sale non mettetela nella stanza, piuttosto la mettete appena fuori dalla stanza in modo che arrivi una luminosità diffusa e meno forte. Cercate veramente di diminuire il più possibile la luminosità. I chiari, cioè non è possibile chiudere le persiane o fare l'oscuro più totale. La mia speranza è che non ci siano lampioni fuori in strada. Se ci sono dei lampioni è un po' un problema, cercate di mettere delle tende un pochettino più coprenti. Se invece la luce che entra è quella delle stelle e quella della luna va bene, nel senso che già è più una luminosità naturale. È chiaro che non bisogna diventare talebani in niente, quando io dico talebani dico estremisti in nulla, però è giusto anche che sappiate per quale motivo vi dico di mettere il buio o meglio il più possibile il buio. Penso di aver detto tutto, quindi tornando all'inizio, se però ci sono paure, ci sono fobie, è chiaro che va lavorato prima quella dimensione lì invece che fare buio e poi non dormire perché siete lì che siete spaventati. Quindi assolutamente prima si lavora sulla dimensione delle paure e poi si cerca di diminuire al minimo la luminosità. Spero che questo messaggio sia utile, vi auguro una buona notte e ci vediamo domani mattina.